Io mi ero posto dal Ministro dell'Interno non solo all'amnistia ma anche al cosiddetto svuotacarceri, cioè all'affidamento che era una misura deleteria che purtroppo si sta discutendo adesso. Sostenuta dagli allora, è sempre così, il Ministro della Giustizia dell'epoca, prima Alfano e poi chi è venuto dopo di lui sosteneva la necessità di un provvedimento per trasferire al soggiorno ai domiciliari chi era in carcere per gli ultimi sei mesi, a prescindere dal reato tra l'altro, un reato di omicidio, un reato grave, mancano sei mesi però li devi scontare in carcere perché sei ammazzato delle persone e io da Ministro dell'Interno mi ero sempre fieramente opposto perché avere 20, 30, come sembra adesso la stima, 60 mila persone agli arresti domiciliari vuol dire impossibilità di controllarli, è inutile dire lo controlleranno, li controlleranno polizie e carabinieri, non ci sarà nessun controllo, tecnicamente non è possibile, non ci sono le risorse umane e finanziarie per fare il controllo, vuol dire farli uscire anticipatamente, è un condono vero e proprio, quindi io mi ero sempre opposto, mi auguro che adesso il Ministro Alfano, Ministro dell'Interno, tenga questa linea di rigore perché altrimenti vuol dire che i crimini aumenteranno, noi su questo stiamo facendo le barricate in Parlamento, la Lega è l'unico partito che le sta facendo perché siamo assolutamente contrari, figurarsi l'amnistia, peggio che andare di notte, non esiste al mondo che ci sia un'amnistia, noi siamo per Abele, non per Caino, noi difendiamo le vittime dei reati ma soprattutto difendiamo i cittadini onesti e vogliamo evitare che diventino vittime di reati, amnistia e indulto, andate a vedere le statistiche, io le ho seguite molto bene dal Ministro dell'Interno, quando c'è un provvedimento del genere sempre c'è un aumento dei reati, è fatale, il problema non può essere il sovraffollamento delle carceri, lo diciamo da dieci anni, bisogna realizzare nuove carceri, la certezza del diritto vuol dire che io ti condanno a dieci anni e tu stai in galera a dieci anni, meno le riduzioni derivanti dai benefici carcerari, ma non esiste al mondo che io ti metto fuori prima perché non ho spazio per tenerti, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, quindi noi su questo siamo radicalmente contrari. Io sono per il rispetto, io contesto la Ministra non perché è la Ministra ma per le cose che dice, io contesto le cose che dice nel merito, io non sono d'accordo con le cose che dice, detto questo la mia è una battaglia politica, mai personale, io non faccio mai questi, chi fa questioni personali ma anche chi fa attacchi personali sbaglia, l'ho già detto anche nei confronti di Borghezio e quindi non ho nessuna difficoltà a ribadirlo. ho letto ieri di questa dichiarazione di questa militante del PD di Prato, di Prato, che ha detto cose che neanche Borghezio ha mai detto, però non ho sentito lo stesso clamore nei confronti, se l'avesse detto uno della Lega, bufera, telegiornali, aperture, l'ha detto una del PD e ha detto cose gravissime perché, ecco, immaginatevi un po', ma io non voglio strumentalizzare la cosa quindi non mi interessa, faccio solo rilevare questo, mi sembra che ci sia una diversità di trattamento. Sì, ne abbiamo discusso dentro la Lega e abbiamo deciso che avremmo accettato la decisione del gruppo, noi siamo rimasti dentro, giusto, nel gruppo e Borghezio è uscito, quindi mi pare un segnale piuttosto evidente. La Lega è dentro e non è uscita fuori in segno di solidarietà o di protesta contro una decisione inaccettabile. Siamo rimasti dentro e Borghezio è andato fuori, vuol dire che il gruppo ha deciso, pur facendo presente la sua posizione, che le posizioni di Borghezio erano le posizioni di Borghezio e non della Lega. Sì, sì, lo so che c'è questo pregiudizio diffuso per cui la Lega è associata alle quote latte, è un pregiudizio diffuso perché non corrisponde al vero, basta andare a guardare come sono andate le cose, quindi mi dissocio da questi collegamenti che ritengo assolutamente arbitrari. Anzi, noi abbiamo preso provvedimenti quando Zai era Ministro dell'Agricoltura per far pagare a tutti, per far pagare a tutti, concedendo solo una dilazione nei pagamenti. Chi non ha pagato è perché ha fatto ricorso al TAR, non ha usufruito di normative ad hoc fatte da noi. Quindi se adesso la Commissione europea ha chiesto allo Stato italiano di ripetere queste somme dai produttori ed è conforme alle normative europee, io non ho assolutamente nulla da dire. Siamo riusciti a rimetterle in moto per quanto riguarda Expo, perché quando io sono arrivato a fare il governatore c'era molta confusione e c'era un meccanismo che si era inceppato. Adesso siamo riusciti a metterlo in moto anche con la leale collaborazione tra istituzioni. Il Presidente della Regione e il Sindaco di Milano hanno collaborato e stanno collaborando in questa direzione e questa è una novità nel panorama istituzionale italiano. La stessa cosa facciamo con il Presidente del Consiglio. Sono preoccupato per la crisi e per come il governo italiano non la sta affrontando come dovrebbe affrontarla. Noi stiamo ancora in attesa per esempio di sapere quanti saranno i fondi che arriveranno in Regione Lombardia per la Cassa Integrazione in deroga. Io sono pressato tutti i giorni dalle parti sociali e dai sindacati che vogliono dalla Regione Lombardia sapere quando i fondi saranno erogati. Io ho già detto che sono pronto ad anticiparli ma se so quanti saranno 200 milioni, 300 milioni, 500 milioni. La stima che facciamo è che in Lombardia serva un miliardo di euro. Noi possiamo anche trovarli però io voglio la certezza che il governo ha attribuito alla Regione queste risorse. Poi li anticipo perché noi siamo bravi e abbiamo le risorse ma finché la certezza non ce l'ho io non sostituisco il governo. E purtroppo questo è un altro capitolo su cui il governo sta mostrando inadempienza. Siamo accusati, la Lega è accusata di essere euroscettica contro l'Europa. Noi siamo contro l'Europa così come funziona adesso perché non funziona, non è in grado di risolvere i problemi. Al di là delle buone o cattive intenzioni, ho fatto l'esempio prima dei pannelli solari, una procedura che l'Europa mi ha detto barroso, io ho dovuto mettere in moto, che però il rapporto costi-benefici danneggia pesantemente alcuni paesi, o rischia di danneggiare alcuni paesi europei. E quindi noi, se questo avverrà, voi immaginate i cittadini italiani, i produttori, le aziende agricole, che penseranno che l'Europa li sta danneggiando. Ecco, noi siamo per un'Europa diversa, ma siamo, ripeto, l'unico partito che ha in mente, vero Francesco? Un modello d'Europa, l'Europa che verrà. E' stato approvato, oggi viene approvato, mi pare, il decreto su Expo in Parlamento. Purtroppo viene approvato con la fiducia e quindi, lo dico da segretario della Lega, noi voteremo contro la fiducia, astenendoci sul provvedimento, perché contiene delle cose buone, come i provvedimenti su Expo, ma l'astensione è dovuta dal fatto che noi abbiamo chiesto, finora inutilmente, al Governo, proprio, qui lo dico anche da Governatore, a tutela delle imprese lombarde, di prendere una decisione saggia e rapida, che è quella di non procedere all'aumento dell'IVA, di scongiurare l'aumento dell'IVA dal primo di luglio. Siamo in attesa di questa decisione, e anche per questo oggi voteremo contro la fiducia, perché finora il Governo ha parlato un'altra lingua. Sì, ma questa cosa qui l'ho letta anche io sui giornali, veramente, perché c'è qualcuno, durante la discussione di domenica, eravamo, quanti eravamo? Ecco, qualcosa di più, ci sono stati numerosissimi interventi, qualcuno, uno in particolare, ha fatto un intervento in cui ha detto dobbiamo applicare le regole che devono valere per tutti, devono valere per tutti, a prescindere dal cognome, appunto. Da lì è montata una cosa che io avrei proposto, ho chiesto l'espulsione dei bossi, io non voglio espellere nessuno, io voglio che la Lega sia un movimento compatto, che rispetti lo statuto, che prevede le responsabilità del Segretario federale, del Presidente federale e il parlarci addosso, l'attaccare tra di noi invece che attaccare i nostri avversari serve solo a fare danno. Vi dico come ho esordito nel mio intervento di domenica, ho detto, a volte mi pare che questo partito abbia più bisogno di Freud che di Sun Tzu, l'arte della guerra, perché è così, abbiamo bisogno di uno che faccia un po' di psicanalisi, perché quando io faccio un'intervista contro il mio collega della Lega, poi l'altro risponde, è una questione più da psicanalisi che non da strategia. La strategia prevede una cosa ben precisa, fissare gli obiettivi, individuare gli avversari e procedere compatti, questo è quello che io voglio fare. Da domenica è stato questo, chi è d'accordo bene, chi non è d'accordo si accomodi, ma non c'è la questione dell'espulsione. Allora, Presidente, di che cosa avete parlato con Barroso oggi? L'ho invitato a partecipare come commissione all'evento che la Regione Lombardia organizza il 7 di luglio a Monza, per lanciare la nostra iniziativa su Expo, la promozione dei contenuti di Expo e l'ho ringraziato per l'adesione che la Commissione Europea ha fatto a Expo. Gli ho detto che vogliamo arrivare assieme alla Commissione alla definizione di un documento strategico per Expo che contenga anche un punto che mi sta particolarmente a cuore, cioè il contrasto alla contraffazione alimentare, che è un danno per la salute ed è un danno per le imprese italiane e lombarde che vale circa 60 miliardi di euro. Sarebbe una cosa bellissima e molto utile se durante l'Expo i principali paesi arrivassero a sottoscrivere la dichiarazione di Milano che impegna tutti i paesi a contrastare la contraffazione alimentare, danno economico e danno per la salute. Grazie a tutti.